buongiorno e benvenute al mio nuovo video di spacchettamento avon vi presento l'ultimo ordine della campagna 8 allora abbiamo il diffusore walser viennese che ha una delicata profumazione di cassi di piselli bianchi e di muschio leggero è una profumazione fantastica molto leggera adatta ad ogni casa è in offerta a 14 99 è un diffusore a bastoncini della durata di circa 5 settimane abbiamo una spazzola piatta che ho comprato io questa in sostituzione della mia che ormai ha molti anni e preferisco avere una scorta in modo da poterla lavare con calma e avere questa intanto da utilizzare abbiamo il profumo celebre che è un profumo molto floreale tra i nostri più venduti abbiamo lo spray districante per i capelli dei bambini al mango ma può essere usato anche dagli adulti abbiamo due set di creme solari una 50 più bambino e una 50 più adulto come vedete sono due i nostri solari adesso cominciano a uscire sempre più frequentemente perché la bella stagione come vedete si avvicina e la protezione solare è fondamentale già bisogna rebusarla anche durante il periodo invernale nel periodo primaverile estivo è assolutamente indispensabile abbiamo una crema mani all'olio di mandorle e glicerina abbiamo di nuovo la lampada moon and star che è piaciuta molto e una amica della cliente che l'aveva acquistata l'ha voluta acquistare abbiamo un mini kit per provare le nostre creme e i nostri prodotti della linea eniu questo è specialmente indicato dai 30 anni in su e contiene due formati prova della crema reversa list 30 più giorno e notte il formato prova del nostro siero illuminante alla vitamina c e il formato prova della nostra acqua micellare abbiamo una crema viso sempre della linea eniu 50 più abbiamo due cola eyeliner entrambi in tonalità brown quindi marrone sono matite contorno occhi con dietro lo sfumino del tipo classico temperabile abbiamo il rossetto matt berry blast che è un intenso color bordeaux abbiamo il siero nutriente bifasico all'olio d'argane olio di marula per i nostri capelli va ovviamente scosso e poi spruzzato sui capelli bagnati o anche sui capelli asciutti e abbiamo un buonissimo bagno schiuma al gessomino da 500 ml in ultimo abbiamo il rossetto sempre matt in tonalità che è un rosa molto delicato un rosa floreale a breve arriverà il primo ordine di campagna 9 che ho inviato ieri la location da cui vi farò lo spacchettamento sarà diversa perché io mi sto per trasferire nella provincia di nella città di treviso io continuerò ad essere consulente sia per la provincia di pavia sia per la provincia di treviso e chiaramente attraverso lo store online è possibile invece ordinare da tutta italia di conseguenza potrò fare consegne a mano una volta al mese a pavia e provincia consegne a mano in qualsiasi giorno della settimana a treviso e provincia e le consegne attraverso il sito quindi dagli acquisti del sito in tutta italia dalla cima a fondo della nostra bellissimo paese per qualsiasi informazione se volete diventare consulenti come sempre ve lo consiglio perché è un lavoro fantastico da fare sia come hobby sia come lavoro primario come faccio io potete contattarmi che sono a vol leader e vi darò tutte le informazioni la formazione e il procederò io con l'iscrizione tutto quanto necessario per qualsiasi cosa contattate mi trovate tutti i miei contatti e i miei social nelle informazioni sotto il video vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento grazie a tutti